Nasce un nuovo progetto che si chiama proprio Progetto Arezzo, un qualcosa alla quale, un'associazione innanzitutto, alla quale possono aderire tutti i cittadini che però vogliono bene a questa città. Certo, è un'associazione nuova ad Arezzo che ha voglia di creare, di fare del bello per la città. È aperta a tutti e a politica, non ci deve essere dentro nessuno a questa associazione. Vogliamo stimolare, vogliamo parlare con il comune, vogliamo che questa città riprenda i suoi splendori di una volta. Ecco, perché è nata questa esigenza proprio in questo momento? Allora, è nata in questo momento perché in pratica una serie di amici si sono ritrovati, amici che vogliono bene a questa città, che, conoscendo anche nei suoi punti più particolari, hanno visto che è una città che è triste, è ferma, non succede nulla, è tutto un po' bloccato. Allora ci siamo detti, ma perché iniziamo a fare qualcosa, perché non iniziamo a muoverci noi? È tutta gente che viene da esperienze completamente diverse. Deve essere un qualcosa che veda lontano, che progetti una città nel futuro. E iniziamo a pensare anche del bello, ci sono delle cose meravigliose in questa città, ci sono dei personaggi meravigliosi in questa città e vogliamo poi esaltarli, farli vedere e conoscere alla gente che è ad Arezzo, diciamo, chi è Bondi, per dire, non lo sa nessuno. Mentre invece è una figura eccezionale per la nostra città. Bondi, il manager ovviamente. Sì, Enrico Bondi, scusate, Enrico Bondi, il manager chiaramente. Vi confronterete quindi anche con quello che è però l'aspetto politico di questa città? Nessuna maggioranza o nessuna opposizione ha creato un progetto, un percorso proprio per tirar fuori il meglio di questa città, di farla conoscere in Italia. In Italia si conosce Cortona e Siena, ma Arezzo è sempre scavalcata da questi itinerari. Allora, basta, abbiamo un patrimonio artistico, culturale meraviglioso. Allora, chi eventualmente volesse sposare appunto il vostro progetto, come può fare? Siamo nati il 21 ottobre, pertanto stiamo allestendo un sito adesso, siamo già più di 30 persone, nel giro di un mese e mezzo siamo già arrivati a questa cifra. Abbiamo creato però un indirizzo di posta elettronica che si chiama Associazione Progetto Arezzo, chiocciola gmail.it, oppure c'è un numero di telefono che è il 335 80 13 667, chiunque vuole avere informazioni, vuole partecipare, ha qualche idea che migliori questa città, che può in qualsiasi campo. Infatti stiamo facendo anche un progetto per le carceri, perché all'interno nostro c'è una signora che è molto sensibile sul sociale, no? E allora stiamo presentando tutta una serie di iniziative, di idee, proprio per sviluppare anche questo argomento qua. Chiunque voglia entrare oppure far parte dell'associazione è aperta a tutti.